Ecco un altro testo molto importante, scritto da coloro che erano testimoni oculari del Messia e il Giudeo. Cosa interessante, come ho accennato prima, ci sono 500 ottime copie del testo in greco, che riportano le sue parole, copiati e hanno avuto origine dalle scritture dei testimoni oculari. Sentite cosa dicono loro, insegnati dalla sua parola. Dicono qui, or fratelli, traduzione, non vogliamo che siete nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. E di nuovo l'espressione, la stessa espressione per far descrivere coloro che sono morti, come quella nel rotolo della prima grotta di Qumran. Risvegliatevi, o come anche contenuto di Daniele che indica coloro che sono morti come che si risveglieranno, che dormono. Affinché non siete contristati come gli altri che non hanno speranza, perché parlano di una rivederci, non di un addio per sempre senza speranza. E sentite cosa dicono, quello che ora vi diciamo, questo per la parola del Signore, quindi non per insegnamenti umani, non per false speranze, invenzioni dei greci che l'anima immortale che uno praticamente continua a vivere, non sono false speranze, non sono le favole, ma dicono, questo che vi diciamo non è invenzione loro di Paolo, Pietro, ma hanno sentito da lui, è la parola sua. Ora vi diciamo questo per parola del Signore, continuano. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati. Adesso leggeremo quando, quando saranno di nuovo tornati in vita, saranno portati in vita. Continuano. Ora vi diciamo questo per parola del Signore, noi viventi, che saremmo rimasti fino alla venuta del Signore. Ecco, questo, l'ultimo giorno in cui parlo della risurrezione, la prima risurrezione di tutti quelli che credevano nel Messia, l'hanno accettato, hanno sperato e si sono addormentati con la fede in Lui. Quindi, la risurrezione all'ultimo giorno è legata, ecco qui è rivelato, alla venuta del Signore. Ritorneranno in vita all'ultimo giorno, e qual è l'ultimo giorno? All'avvenuta del Signore. Continuano a parlare che ci saranno le persone che saranno nell'ultima generazione, che vedranno Lui arrivare, e dice, noi che saremmo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati. Quindi indicano che quando uno spira, non è che va subito dal Signore, ma non precedono coloro che vedono il Signore ritornare sulle nuvole, non precedono coloro che si sono addormentati prima, secoli prima, 4.000 anni fa, 2.000 anni fa, 40 anni fa, ma continua il testo e dicono così, noi che saremmo rimasti alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un potente comando, con la voce di Arcangelo, e con la tromba di Dio discenderà dal cielo. Si parla del suo ritorno, come è stato detto nelle antiche profezie di Daniele. Il Messia, il figlio dell'uomo che ritorna sulle nuvole con grande splendore ad avere il suo potere e l'impero in terra. La stessa cosa qui si dice, che il Signore Messia tornerà con grande voce, potente comando, con la tromba di scendere dal cielo, sarà un avvento non nascosto, reale, che potrà essere visto, sentito. E sentite cosa dice, è quelli che sono morti in Cristo, risusciteranno per primi. Esattamente come il profeta Daniele parlava, che ci sono ben due risurrezioni. La prima è quella di coloro che si alzano nella vita eterna, nella vita in continuazione. Quelli, ecco qui dice, risuscitano primi. È la stessa cosa che è indicata dallo stesso Messia, quando dice che ci saranno ben due risurrezioni. Quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi, poi noi viventi, che fine faranno coloro che sono vivi al momento del ritorno di Cristo? Saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Quindi coloro che sono morti prima, hanno ospirato, non precedono coloro che sono rimasti all'ultimo giorno, al ritorno del Messia, ad incontrare il Messia. Ma neanche coloro che sono vivi e lo vedono arrivare, non precedono coloro che sono morti prima. Dice, questi risuscitano e insieme vengono sulle nuvole rapiti nell'aria e incontrare il Signore per essere sempre così. E dicono, consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole, non parole dei greci con le falsità sull'immortalità dell'anima. E sentite, se dovessimo disegnare praticamente in maniera molto così pitturesca le descrizioni che sono state dette in questo testo antico, scritto in greco, quindi parlano a riferimento come lui è morto, è risorto, è diventato vivo, così dicono abbiate fede e consolatevi con questa verità che quando lui discenderà dal cielo con grande potenza coloro che sono rimasti vivi non precederanno incontrarlo a lui ma ci sarà risurrezione di tutti coloro che si sono addormentati, credendo in lui, quindi morti in Cristo, risuscitano e dice tutti insieme, nello stesso momento sulle nuvole saremo portati, rapiti verso il Signore, a incontrarlo e stare nell'aria e stare per sempre insieme a lui. Infatti il rotolo della prima grotta di Qumran riporta quello che è contenuto nel museo a Gerusalemme, traduzione dice così che quel giorno dell'Eterno sarà un giorno straordinario, traduzione, poiché il giorno dell'Eterno degli eserciti verrà contro tutto ciò che è orgoglioso ed altero e contro tutto ciò che si innalza per abbassarlo. Infatti riguardo il suo ritorno, i suoi discepoli raccontano testimoni oculari, ecco così tradotto dal greco, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Quando ci sarà risurrezione? Alla sua venuta, di nuovo anche qui indicato che risurrezione di coloro che dormono in lui ritorneranno in vita alla sua venuta. Non c'è risurrezione di tornare in vita prima. E continua il testo così. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Perché scrivono? Come tutti muoiono in Adamo, abbiamo ereditato dai nostri progenitori questa natura praticamente, che abbiamo lo stesso destino, così scrivono? Tutti saranno vivificati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo, la primizia, poi coloro che sono di Cristo, quando risusciteranno e torneranno in vita? Alla sua venuta. Non torna in vita prima. Non c'è la vita prima. Non c'è la vita quando si ispira. Si sta in un stato inconscio, come se uno dormisse, e poi ritorna in vita alla sua venuta. E qui, nel capitolo 15, della prima Corinzi tradotto dal greco, raccontano un altro interessante dato che riguarda la nostra natura. È la natura di coloro che ritorno in vita. Come ritorno in vita? Chi magari ha avuto problemi di salute, chi è morto anziano con problemi di organi, malattie, tante altre cose. Guardate cosa è scritto. Così sarà pure la risurrezione dei morti. Il corpo è seminato, corruttibile, e risuscita incorruttibile. Quindi coloro che ritornano in vita alla prima risurrezione risuscitano non più corruttibili, ma con un corpo incorruttibile, un corpo sano, non più anziani con le malattie, con i problemi di salute, ma in perfetta salute con un corpo che non è corruttibile. E sentite cosa scrivono. Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio. Quindi per coloro che rimarranno ad essere vivi al momento del ritorno del Messia, quelli che sono morti e hanno avuto speranza in Lui, ritornano in vita incorruttibili, sani, non anziani e malati, ma quelli che sono rimasti vivi fino alla venuta del Messia. Che fine faranno? Chi ha denti cariati, chi ha problemi con l'ostero sporosi, chi ha i problemi con tante cose. Cosa succede con il loro corpo? Sentite qui. Ecco, vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio. Quando? Al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati in un batter d'occhio. Saremo mutati poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Quindi solo in questo momento, in quel momento descritto, quando ritorno in vita i morti addormentati prima risuscitano, diventano giovani con un corpo sano, incorruttibile, coloro che rimangono vivi e vedono il ritorno del Messia hanno avuto speranza di Lui, si sono abbandonati a Lui, in un batter d'occhio anche loro diventano mutati, cambiati con un corpo incorruttibile, sano, giovane, non più malato e soprattutto in quel momento non vengono rivestiti di questo corpo incorruttibile e rivestiti dell'immortalità. La stessa scena che è stata già preannunciata nelle copie della Tanakh di Daniele che ci siano quindi due momenti di due diverse risurrezioni di ritorno in vita di coloro che hanno creduto erano, si sono abbandonati a Lui e gli altri che risusciteranno in condanna ed è qui lo stesso Messia racconta che ci sono due diverse risurrezioni. La stessa descrizione vi è grazie il testo antichissimo in greco rivelazione scritto in greco da un altro ebreo di nome Giovanni che era testimone oculare di Yeshua Mashia Nazareth il Gesù il Messia re dei Giudei che è stato sotto l'antico impero romano deportato perseguitato su isola Patmos qua in Grecia e racconta che aveva ricevuto le rivelazioni riguardo il futuro dallo stesso essere celeste di nome Gavriel lo stesso colui che è andato a portare le interpretazioni e spiegazioni sul futuro in antica Babilonia Daniele lo stesso su isola Patmos in Grecia poi non in Babilonia ma nell'antica Roma rivela il futuro a Giovanni questo ebreo rivelandogli quante cose ci saranno da accadere quelle che sono e il futuro fino al ritorno di Messia e rinnovamento di tutte le cose di cieli nuovi nuova terra e poco prima di cieli nuove e nuova terra e rinnovamento racconta che nel futuro ci saranno esattamente due risurrezioni la prima guardate qui che è al momento del ritorno di Messia e sentite le parole tradotte dal greco abbiamo ottime 500 compie in greco nei musei traduzione dice così costoro tornarono in vita quindi prima risurrezione alla sua venuta e regnarono con Messia con Cristo per mille anni ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti mille anni quindi al momento della sua venuta tutto il resto dei malvagi dai milenni indietro dall'epoca dei nostri progenitori fino all'ultimo malvagio che ci sarà su questa terra che è morto nelle tombe tutti questi malvagi non tornano in vita al momento della sua venuta e dice così questa è la prima risurrezione quindi proprio si parla di due risurrezioni la prima al momento della venuta del Messia e dice loro saranno con lui e regneranno per mille anni questa è la prima risurrezione beato e santo speciale è colui che a parte alla prima risurrezione su di loro non ha potestà la seconda morte ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Messia di Cristo e reglieranno con lui mille anni quindi il testo che abbiamo letto prima che dice alla sua venuta tutti quelli che si sono addormentati con la fede in lui saranno portati in vita e insieme rapiti con altri rimasti vivi trasformati sulle nuvole per essere insieme nell'area e nell'universo per mille anni e qui dice che regneranno saranno insieme davanti Dio e davanti il Messia poi tra poco vedremo il testo che dice cosa accadrà durante questi mille anni riguardo i malvagi che non risuscitano nella prima risurrezione dice essi il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti mille anni e che fine avranno i malvagi dopo mille anni ecco uno dei antichi scritti che fa parte dei scritti speciali della Tanakh ebraica che il mio popolo copiava nel profeta Malachia c'è la rivelazione riguardo il destino il futuro dei malvagi poiché ecco il giorno viene ardente come una fornace riguardo il futuro e tutti quelli che operano malvagiamente e empiamente saranno come paglia come stoppia il giorno che viene il futuro li brucerà dice l'eterno degli eserciti in modo da non lasciar loro né radice né ramo nei rotoli della prima grota che sta nel museo si dice che per lui questo è un'opera insolita una opera inaudita perché è abituato a creare a proteggere e salvare ma qui non c'è più rimedio con i malvagi che si sono comportati e continuano e vogliono vivere solo facendo male agli altri quindi saranno purtroppo eliminati ma la cosa buona descritta qui saranno eliminati come la paglia che brucia velocemente e qui cosa dice in modo da non lasciar loro né radice né ramo quindi non esisteranno più non rimarrà nulla di loro durante l'eternità non ci sono le pene eterne per coloro che erano malvagi per un periodo di tempo non saranno giustiziati da un dio che per tutte l'eternità li distrugge e gli fa provare le pene eterne queste descrizioni non esistono in rotoli speciali della Tanakh queste descrizioni non esistono neanche nelle informazioni dei suoi discepoli testimoniculari nemmeno Messia ha mai raccontato che saranno perseguitati e sottoposti alle pene eterne in continuazione qui c'è scritto saranno eliminati i malvagi in modo da non lasciar loro né radice né ramo dice così ma per voi che temete il mio nome sorgerà il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali e voi uscirete e salterete come vitelli di stalla finalmente non ci saranno più stuprattori non ci saranno più assassini non ci saranno più i ladri non ci saranno le persone di cui temere avere paura quindi ci sarà la gioia di coloro che saranno in vita e dice calpesterete gli empi perché saranno cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io preparo dice l'eterno degli eserciti saranno l'accendere sotto i vostri piedi non ci saranno più quindi una completa eliminazione degli empi ma non soltanto degli empi ma perfino anche degli esseri celesti che si sono ribellati tra poco leggeremo anche riguardo a questo quindi anche sull'isola Patmos in Grecia un ebreo nel documento che non fa parte d'Ottoride del Mar Morto ma tratta le stesse descrizioni di cui Daniele e Isaia raccontavano ritorno in vita nel futuro costoro non tornarono in vita il resto dei morti e dice coloro che sono venuti in vita regnarono con Cristo per mille anni ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti mille anni quindi alla fine di mille anni che i salvati e vivi sono nell'universo nelle costellazioni davanti Dio con Cristo e tra poco leggeremo cosa succederà durante quei mille anni dice dopo mille anni dopo mille anni il resto dei morti malvagi non torna in vita ma solo alla fine che finiscono questi mille anni dalla venuta di Cristo e cosa succederà alla fine di questi mille anni durante mille anni e che condizione è la terra la terra è desolata non ci sono esseri viventi tutti i malvagi sono nei loro sepolcri nelle tombe e quelli che sono riportati in vita sono nell'universo nelle costellazioni celesti con davanti Dio il Messia e dice per quei mille anni esseri celesti e Satana che si è ribellato con suoi accoliti sono sulla terra come legati non possono instigare nessuno a fare del male tutta la loro esistenza hanno passato nel fare incitare le persone a fare del male questa volta si sente come legato perché non c'è nessuno che possa essere tentato e cosa succede? dice così il testo e quando quei mille anni saranno compiuti Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedure le nazioni quindi dopo mille anni tutti i malvagili tutte le nazioni ritornano in vita e finalmente come sciolto non è in quella prigione durante mille anni nella quale lui e i suoi accoliti celesti caduti i ribelli non potevano più instigare nessuno a fare del male a fare malvagità quindi dopo mille anni non cambia il comportamento e qui cosa dice uscirà per sedure le nazioni che sono ai quattro angoli della terra Gog e Magog per adunarli per la guerra quindi il letteggiamento la ribellione continua e le persone che ritornano in vita malvagi neanche queste cambiano l'atteggiamento quindi non c'è rimedio non c'è speranza anche loro sono per la guerra si lasciano ingannare vogliono la guerra e dice il loro numero sarà come la sabbia del mare esse si muoveranno su tutta la superficie della terra voi immaginate dai nostri dall'epoca dei nostri progenitori fino ai nostri tempi quante persone perché di solito la maggioranza seguiva la via malvagia sono di solito le minoranze che scelgono e vogliono una strada giusta buona diversa e quindi quando su di tutta questa epoca le persone malvagie vengono portate in vita dice il loro numero enorme si muoveranno su tutta la superficie della terra e cosa vede Giovanni sull'isola Patmos alla fine di questi mille anni quando loro sono tornati in vita scenderà discenderà dal cielo dalle costellazioni celesti una nuova città nuova Gerusalemme tutta d'oro come un goto d'oro praticamente e scenderà insieme a Dio a coloro che sono tornati in vita la prima risurrezione salvati verso Monte degli Olivi c'è una profezia nei minori profeti che fa parte della Tanakh ebraica in cui si dice che l'Eterno il Messiae quando ritornerà scenderà sul Monte degli Olivi sullo stesso Monte degli Olivi che c'è ancora oggi in Israele vicino Gerusalemme da qui ci fu la sua l'ascensione per andare verso l'universo e verso costellazioni celesti così dice lo stesso punto scenderà e dice quando scenderà questa città dice qual è la reazione dei malvagi essi si muoveranno su tutta la superficie della terra e circonderanno il campo dei Santi e la diletta città per muovere guerra ma qui c'è l'intervento dice e così si realizzerà la profezia di Malachia ma dal cielo scenderà fuoco non tramite acqua ma tramite fuoco saranno eliminati mandato da Dio e le divorerà 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 vuol dire che non rimane niente come fu detto in Malachia come stoppia il modo da non lasciare né radici né ramo e diventeranno come cenere ma non soltanto malvagi qui tutti malvagi di tutti i secoli tornati in vita ma perfino insieme a loro il ribelle i suoi acoliti celesti caduti ribelle saranno distrutti come se non fossero mai esistiti e durante mille anni prima di questa scena del quando sarà eseguito il giudizio sentite cosa accadrà durante mille anni perché abbiamo letto poco fa perché Giovanni vide che coloro che tornarono in vita alla prima risurrezione alla venuta del Messia andranno insieme nell'universo nell'area per stare insieme regneranno durante mille anni vede la scena di giudizio cosa si farà in quei mille anni poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra e non vi fu più trovato posto per loro e vidi i morti grandi e piccoli che stavano reti davanti a Dio e i libri furono aperti e fu aperto un altro libro che è il libro della vita e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri secondo le loro opere quindi alla fine di questi mille anni in cui ci sarà giudizio ci sarà l'esame di tutti quelli malvagi saranno giudicati in base alle loro opere perché riceveranno anche e il giudizio sarà eseguito in base alle loro opere cosa succede? alla fine di questi mille anni prima che il fuoco scendesse vedranno tutte le cose che hanno infatti durante la loro vita vedranno tutte le cose che l'eterno Dio ha fatto per loro non si poteva fare più di così ha dato la sua vita ha preso le loro colpe ha pagato per loro come ha pagato per quelli che sono risorti nella prima risurrezione e questo giudizio è molto importante perché per altri esseri celesti nell'universo per le persone salvate alla prima risurrezione che risuscitano per altri pianeti è importante capire perché alcune persone sono risorte alla prima risurrezione per vita in continuazione e le altre persone no ma saranno risorte nella seconda che saranno eliminate quindi si fa vedere la loro vita come è andata tutte le occasioni che hanno avuto per cambiare la vita tutte le chiamate che hanno rifietuto rifiutato si vedranno tutte le loro opere magari ci saranno le persone e infatti nel rotto della prima grotta si dice che l'eterno distruggerà per sempre la morte e asciugherà le lacrime dal viso del suo popolo magari se qualcuno risuscita e non risuscita suo fratello o qualche parente possa piangere e dire perché non è risuscitato nella prima risurrezione insieme a me sembrava buono sembrava quando si apriranno libri e si vedrà magari che le persone avevano la doppia vita che sembrava buono ma però magari era stupratore oppure un mafioso uccideva e non si sapeva nulla quindi durante mille anni si potranno sapere queste cose qua e si capirà sarà chiaro sia per esseri celesti l'universo sia per altri abitanti del pianeta sia per stessi salvati che sono risolti la prima risurrezione perché altre persone risuscitano non la prima risurrezione nella vita a continuazione ma nella seconda per essere eliminati e questo giudizio questa scena viene vista alla risurrezione seconda dei malvagi che vedono tutte le cose prima che il fuoco scendesse cosa è stato fatto per loro e cosa hanno rifiutato e come si sono comportati e quello che l'Eterno ha fatto per loro ma non hanno accettato e dice così essi saranno giudicati essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere non tutte le persone hanno fatto le stesse malvagità parliamo di Erone per esempio oppure di Hitler si sta parlando di centinaia milioni di persone non può essere messo allo stesso pari con chi ha fatto soffrire uccidere 15 o 5 persone quindi durante questi mille anni e il giudizio viene fatto e saranno giudicati e sarà eseguito in base alle loro opere esattamente ritorneranno indietro come antichi rotoli della Tanakh raccontavano le copie della Tanakh di Geremia e Zecchiele dice che i malvaggi riceveranno sulle loro teste esattamente le cose che hanno fatto soffrire gli altri quindi alla fine mille anni la sofferenza che sentiranno mentre quel fuoco le elimina sarà esattamente pari in base alle loro opere che hanno fatto sentiranno tutto indietro quello che hanno fatto gli altri e saranno eliminati come non fossero mai esistiti e dice poi la morte e l'Hades la tomba furono gettati nel stagno di fuoco questa è la morte seconda e si vede in questa descrizione che da questa morte non c'è più ritorno in vita non esistono più così si realizzeranno le parole descritte in Malachia il giorno viene che gli empi malvagi saranno come stoppia verranno bruciati il muodo dice l'Eterno da non lasciar loro né radice né ramo e dice saranno come la pianta come la sotto le piante dei giusti come la cenere e dice sotto i vostri piedi non esisteranno più è quel fuoco praticamente che distrugge l'oro li elimina continuerà a sciogliere e bruciare gli elementi che ci siano sulla terra e dopo questo ci sarà in diretta la realizzazione di quanto scritto nel rotolo alla fine di questi tempi le scene descritte nel rotolo la prima grotta di Qumran tra i roti mar morto la visione di una futura profezia di una grande realtà che si realizzerà come dice in questo rotolo dice leggete ogni cosa qui descritta si realizzerà come la profezia su antica città Edon Petra si è realizzata come l'antica profezia sulla città antica Tiro che oggi è sotto il mare si è realizzata su Ninive su Babilonia sulla porta d'oro Gerusalemme su tante altre cose le profizie sull'Egitto così questo rotolo dice leggete bene nessuna cosa mancherà tutto si realizzerà e anche questa ultima che riguarda l'intervento suo del creare ricreare nuovi cieli e la nuova terra dopo queste scene ecco io creo nuovi cieli e nuova terra le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente i malvagi saranno eliminati come se non fossero mai esistiti compreso lucifero satana esseri celesti acoliti caduti ribelli quindi non verranno più in mente non c'è un luogo di tormento l'eterno per i malvagi dove uno può ricordare vedere in continuazione il suo stupratore oppure assassini e così via queste cose non torneranno più in mente non si ricordano le cose di prima ma voi gioite esultate per sempre in ciò che creo dice mi rallegrerò e gioirò del mio popolo e di questo pari passo non soltanto le profezie del rotolo della prima grotta di 1QISA trattino A raccontano come andrà ad esserci il futuro ma lo stesso le profezie molto precise nel rotolo di Daniele raccontano che succederà questa cosa dice il Messia Lach del cielo sarà un intervento che riguarda la nostra terra nelle profezie dice un intervento non fatto per mano d'uomo ma per l'intervento suo in cui si dice lui farà sorgere il suo regno in questa terra e farà distruggere tutti altri governi regni umani la stessa cosa si vede e lo stesso è descritto sull'isola Patmos anche da testimone oculare Giovanni e se dovessimo dipingere queste scene la sequenza potrebbe andare così quindi ci sarà il momento del ritorno del Messia sulle nuvole come anche le profezie di antichi rotoli anche profezie della Tanagli Daniele dice verrà sulle nuvole e ci sarà risurrezione ritorno dai morti in vita saranno presi sulle nuvole saranno portati per mille anni sopra il suo ritorno dice sarà un ritorno visibile reale scrive sull'isola Patmos ebreo Giovanni ecco egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà non è un evento nascosto simbolico è reale e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui tutti lo vedono la stessa cosa è descritta anche nel rotolo della prima grotta di Qumran quello che è nel museo traduzione lo sguardo altero dell'uomo sarà abbassato e l'orgoglio dei mortali sarà umiliato soltanto l'eterno sarà esaltato in quel giorno dice il rotolo prima grotta traduzione l'ebraico beati tutti quelli che sperano in lui quel giorno è legato alla risurrezione e la speranza del suo ritorno è legata al più bel giorno è quello di rivedere i nostri cari che sono morti e avere speranza di rivederli vivi sani riabbracciarli e così traduzione della prima grotta di Qumran dice svegliatevi ed esultate o voi che abitate nella polvere ci sarà questo risveglio la tua ruggiata è come la ruggiata di una luce sfavilante la terra darà la luce ai morti mi ricordo mio padre due anni fa quando si è addormentato a causa di un tumore al pancreas siccome alla fine della sua vita ha accettato il messia ha accettato l'eterno ha accettato si è abbandonato a lui ai suoi meriti e ha cercato rifugio dentro di lui ha preparato in anticipo e organizzato il suo funerale al suo miglior amico aveva che lo trattava come ricordava come fratello aveva dato tutte le indicazioni riguardo il funerale gli ha dato la foto quale stampa da fare per l'annuncio della morte gli ha richiesto i sottofondi musicali i messaggi da dire ai suoi figli alla sua piccola figlia nostra sorella e alla sua moglie e così via e una cosa che ha detto che mi ha colpito molto è questa ha detto per le persone che non sanno cosa succede con le persone quando uno spira disse così digli alle persone di non portare gli oggetti o qualcosa che di solito mettono nella barra o qualcosa del genere perché dice io credo che la morte è un sonno e ci vedremo quando Messia Gesù ritornerà quindi mi risveglierà e siccome un sonno fece una richiesta riguardo vestiario dice non vestitemi in un abito elegante con la camicia e cravatta anche seppur quasi tutta la sua esistenza era vestito così in maniera molto elegante con la camicia dice visto che è un sonno vestitemi col pigiama col cuscino mettetemi il cuscino una coperta e mettetemi non in posizione classica quella con le mani composte ma con le mani sotto la testa praticamente così a fianco perché è un sonno e ci sarà risveglio al ritorno di Messia così ci vediamo e mi ricordo che queste parole erano molto significative per tutti noi familiari per figli ma in particolare per la nostra piccola sorellina che aveva una età molto fragile circa intorno 9-10 anni quindi questa speranza di cui parlano i rotoli del mar morto i rotoli della prima grotta è una speranza grande e forte quasi certezza perché tutte le profezie di antichi rotoli e dei rotoli della prima grotta si stanno realizzando e questa speranza di questo giorno in cui i rotoli della prima grotta dice così riguardo il futuro distruggerà per sempre la morte adonai l'eterno asciugherà le lacrime da ogni viso toglierà via da tutta la terra il vutiperio del suo popolo perché l'eterno ha parlato e dice rotoli prima grotta quando tornerà sarà un giorno di grande splendore ma anche terribile perché ci saranno due reazioni delle persone dei vivi coloro che sono malvagi hanno rifiutato le chiamate coloro che non hanno accettato gli uomini entreranno nelle caverne i malvagi reagiranno così delle rocce e negli antri della terra davanti al terrore dell'eterno e allo splendore della sua maestà sarà come quasi la statua una cosa di grande splendore e anche di grande terrore della sua maestà quando si leverà per far tremare la terra ci sarà grande terremoto capitolo 24 del rotolo di prima grotta di Qumran che è esposto nel museo racconta cosa succederà in giorno in cui l'eterno si alzerà e tornerà e farà tremare la terra ci sono lì descritte le cose e tutti i malmaggi non riusciranno a sopravvivere la scena di questa gloria saranno praticamente eliminati distrutti e poi dopo mille anni saranno riportati per vedere il giudizio e ad avere il giudizio eseguito in base alle loro opere la terra come abbiamo vista se dovessimo disegnare in maniera così in base alle iscrizioni del racconto di rivelazione di Giovanni ebreo sull'isola Patmos è isolata per mille anni non c'è nessuno e i nemici esseri celesti ribelli accoliti sono praticamente come in una prigione in una prigionia chiusi senza poter ingannare gli uomini e durante mille anni non soltanto che sono giudicati i malvagi di tutti i tempi ma anche perfino esseri celesti perché devono ricevere per tutto il male che hanno instigato gli umani a farlo e anche loro saranno eliminati e quindi racconto grazie alle copie del greco che ci sono nei musei di questi antichi scritti dall'ebreo Giovanni su isola Patmos che racconta le simili cose che sono scritte i rotoli antichi dice scenderà dal cielo questa nuova Gerusalemme si poserà alla fine i mille anni disorgono praticamente malvagi non giovani non in salute ma esattamente come si sono addormentati e continuano con la loro stessa malvagità di prima ingannati di nuovo e anche lo stesso Lucifero Satana con i suoi coliti e ribelli malvagi non vogliono cambiare idea ma continuano ancora la ribellione contro Dio e cercano di attaccare la diletta città e l'accampamento ma il fuoco dal cielo dopo che hanno visto le scene di quanto è accaduto in loro vita e di quanto l'Eterno ha fatto per loro vedono l'esito del giudizio e del quanto è visto nei libri alla fine viene eseguito il giudizio che ognuno riceve secondo le opere che ha commesso nel passato e così vengono eliminati sia i malvagi che sia esseri celesti caduti quel fuoco che discioglie e elimina loro trasformandoli in cenere continua a purificare la terra sapete quante testate nucleari abbiamo nella terra la spazzatura radioattiva tutte queste cose qua come dice uno dei testimoni oculari ebreo Pietro Shimon Pietro nella sua seconda epistola dice la stessa cosa come qui rivelata Giovanni sul la rivelazione dice che noi aspettiamo dice ritorno del messia signore che tornerà e ci sarà il fuoco il fuoco che scioglierà dissolverà tutti gli elementi della terra praticamente e dice aspettiamo la ricreazione dei nuovi cieli dopo questa purificazione col fuoco della terra creazione di nuovi cieli nuova terra esattamente le stesse cose che sono descritte nel roto della prima grotta di Qumran esattamente le stesse cose che si vedono anche descritte praticamente nel Malachia che fa parte dei scritti degli antichi della Tanah che col fuoco non con l'acqua ci sarà questa purificazione e dopo vede che la terra viene creata nuova i nuovi cieli la nuova Gerusalemme ci sarà in mezzo praticamente la capitale del nostro pianeta su questa terra e così si realizzano le profezie sia del roto della prima grotta e si realizzano anche quelle di Daniele che farà sorgere il suo impero ma non solo su una parte del nostro pianeta su tutta la terra questo intervento farà che ci sarà la pace giustizia in tutta la terra ecco si realizzano le profezie del roto della prima grotta che anche animali saranno vegetariani passeranno erba e perfino agnello leone potranno camminare insieme si dice che i salvati di tutti i secoli potranno contemplare la faccia dell'eterno il messia in mezzo a loro e di tutti i salvati di tutti i secoli vedere e conoscere anche esseri celesti che hanno contribuito che venissero e fossero in quel luogo lì e ovviamente tutte queste cose si possono sapere grazie perché anticamente l'eterno Elohim Adonai nei rotoli antichi che abitanti di Qumran copiavano anche il mio popolo ebraico nella Tanakh hanno avuto queste informazioni perché non fu l'uomo ma l'eterno a rivelare sia le cose che riguardano il futuro le cose che sono accadute nell'antico passato anche prima dell'esistenza del nostro pianeta e anche le cose reali che riguardano la nostra natura e riguardano quanto accade quando uno spira e la speranza e la certezza che si può avere di una vita che ci sarà nel futuro come rivelato in questi rotoli grazie per la vostra attenzione